Vai vicino alla pianta Piano però, non fa la città Senti la prima Allargati tutto a sinistra Vai su giù la prima Bravo 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 Vai peggio Uno in alto c'è il canto si, ci stai il canto si, ci stai là ha già visto il pennello? cosa fanno? con i cilindri si può pensare di attaccare nel lino una finta io ti guardo perché mi piccola come vi darò si va bene? acceleratore e freno più vesciù è meglio non alzare indietro che ti ammazzi non c'è un pennello sono tutti alle pennelli che si attra il peso del pennello è più davanti comunque il gianni l'ha fatta due volte tutte e due le volte chiudi la camicia chiudi la camicia bravo è un gambe lunghe guarda lui si fa il dito lì con la barba lì dentro qua tutta a destra senza paura è piano vai vai ok che visto come è lì? ok ok sui compagni vai va bene va bene va bene va bene asicciate si l'idea è